Ciao come ti chiami e di cosa ti occupi? Ciao buongiorno sono Andrea Frascheri e sono direttore vendita della nostra società che è la Frascheri SPA, noi produciamo latte, panna esclusivamente per utilizzo professionale. Perché hai deciso di partecipare al nostro evento B2B Live? Conosco già l'ippogrifo, collaboriamo con loro e ci sembrava giusto approfondire ulteriormente i temi del marketing. Quali sono i contenuti che hai trovato più utili che da domani utilizzerai nel tuo lavoro? Beh diciamo con l'infarinatura dei contenuti in generale noi l'avevamo già, è difficile secondo me fare una scaletta di cosa è più utile, bisogna cercare secondo me un po' come ci è stato spiegato di schematizzare ed entrare un pochettino a contatto con tutto quello che è il mondo del marketing. Perché lo consiglieresti? Se lo consiglieresti? Sì lo consiglierei perché comunque è un upgrade del nostro lavoro, cioè molte volte noi siamo oberati nella nostra operatività e continuiamo a fare le cose nello stesso modo e poter fare approfondimenti di questo tipo invece ti fa capire che ci sono altri sistemi che possono comunque agevolarti e migliorare le tue performance.